Sono all'incirca 100.000 gli euro messi a disposizione da parte della regione per il comune di Montesilvano interessato ai consueti lavori di consolidamento del litorale dopo le mareggiate invernali. Sui quasi 5 km di costa la parte che sembra avere maggiori necessità è quella dei grandi alberghi dove il mare è avanzato di diversi metri. Nei giorni scorsi prime riunioni tecniche in comune tra il sindaco De Martinis, gli assessori Renisi e Ciglia e il dirigente Fabio Cerallo per impostare e programmare i lavori. Sono interventi che partiranno come l'anno scorso entro la prima decada di giugno. Sono arrivati fondi regionali, un intervento di circa 100.000 euro che come l'anno scorso appunto la regione ci ha dato e cercheremo di intervenire il prima possibile per dare respiro a quelle attività soprattutto nella zona dei grandi alberghi che hanno subito in questi ultimi mesi delle mareggiate che hanno ridotto sensibilmente la spiaggia. Ecco, ogni anno di solito questi eventi atmosferici creano problemi. Questi sono interventi in qualche modo tampone che però sono utili per affrontare quantomeno la stagione estiva. Assolutamente sì, speriamo che sia l'ultimo anno in cui il comune deve intervenire temporaneamente come è ben detto in quanto con i lavori che sono stati già stati progettati e appaltati e che dovrebbero partire anche questi a breve si dovrebbero riposizionare nella stessa zona le scogliere in maniera diversa e quindi speriamo che definitivamente si risolva questo problema che comunque crea un danno economico alle nostre strutture e non ce lo vogliamo permettere.